Ciao, mi chiamo Rachele, ho 29 anni e sono un'artista di circo. Quello che vogliamo fare è far conoscere il circo a questi bambini e speriamo che sfruttino le nostre discipline perché sono molto belle e riescono a far partecipare tutto il corpo, tutti gli schemi motori. Cesare è entusiasta, viene volentieri, anzi abbiamo avuto il problema di portarlo via e sicuramente spero che a parte adesso si li possa ripetere sia perché serve fisicamente e perché lo sta aiutando a imparare tutti quegli aspetti relazionali che spesso i bimbi con una diagnosi autistica fanno difficoltà. 1, 2, 3... ALEA! Ok, ci possiamo copiare, si vede male per andare a casa! ALEA! 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 ALEA!